E quando caddero i regni di ogni cielo, alla fine delle religioni, quando tutti gli dèi furono sepolti, l'uomo rimase solo sulla terra, ponendo interrogativi inutili agli oracoli sbagliati, ottenendo le risposte da macchine che lui stesso aveva costruito, arrivando perfino a regolare la propria vita sui risponsi casuali, che potrebbe dare anche uno strumento per regolare il traffico. Nella mia strada c'è un semaforo, che ogni mattina aspetta a me, della giornata lui è l'oracolo, trovarlo verde è un gran piacere, ma devo ammettere che spesso, mi fermo apposto a prenderlo, anche se verde io non passo, aspetto il rosso per confonderlo, o lui mi ignora, lui mi intende, è sempre più profetico, o sono io che lo assecondo, oppure lui che è magico! Questa mattina all'incontrario! Sì! 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 Sì!